Questa è una macchina che conosco benissimo, Righiera GT, ho due figlie e ci ho passato un bel po' di vacanze. Macchina di una funzionalità estrema, compatta, molto abitabile, un bel blocco cucina, due singoli, classica macchina da famiglia con due bambini sotto dieci anni. Un bel matrimoniale e zona giorno con la possibilità di avere il doppio tavolino, il comodo il doppio tavolino anche per far giocare o studiare bambini e avere sempre il tavolo centrale libero. Molto luminosa e ben razionale, un bellissimo bagno che se avete anche bambini piccoli potete lavarli con un'estrema facilità, c'ha l'impianto radio, il porta bici, il turbo vent che è un estrattore d'aria calda. E come vi dicevo in questo ci ho passato bellissime vacanze estive.